Musica Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi andremo a decorare la sagoma dell'alberello Per fare questo progetto ho utilizzato l'alluminio che è uno degli ultimi metallici usciti nell'ultima release che io ho proprio ordinato per ultimo perché avevo già l'argento e quindi avevo deciso di non prenderlo diciamo che non lo so io l'ho trovata diversa la composizione rispetto agli altri colori perché era molto più simile a una mousse quasi che ha un colore rispetto all'oro vedete che è veramente molto cremoso quindi non lo so la composizione mi è apparsa un po' strana però sinceramente l'effetto è carino è questo argento molto più chiaro un attimino più luminoso diciamo che io ho dato due passate e in questo caso ci volevano perché con una passata sola si vedeva ancora leggermente il legno sotto quindi assolutamente non mi piaceva alla fine ho un po' esagerato con la quantità di colore quindi dovevo andare un po' a rifilare le puntine dell'alberello però va bene volevo utilizzare il pennellino fine ma non avrei finito dopo due anni appunto perché non essendo liquido come immaginavo il colore avrei finito dopo due o tre giorni di lavoro ed era un lavoro abbastanza urgente quindi sono andata avanti in questo modo ho forzato un po' l'asciugatura con le imbosse cercando di non esagerare solo che appunto avevo poco tempo mi serviva in questi colori quindi dovevo fare un abbinamento argento e azzurro barra blu e questo è uno dei motivi per cui appunto il colore è questo e ho cercato di tenere comunque le stesse tonalità nelle varie decorazioni siccome che appunto non è una cosa per me ho cercato di non esagerare troppo e ho lavorato molto con gli stensing con i brilli gel e qualche applicazione di adesivi vari che vedrete comunque nell'andare avanti del video come vi ho detto appunto ho fatto la seconda passata e quella seconda passata la coprenza è buona ignorate la luce ma mi si era bruciato un faretto e me ne sono accorta dopo quindi a un certo punto vedrete che è più luminoso perché abbiamo sistemato il faretto e devo avere anche acceso la seconda softbox credo ad un certo punto del video perché con l'argento mi sperava poi ho cercato di tenere la telecamera più bassa e quindi fa un po' ombra non posso farci niente avendo un'illuminazione a faretti posso mettere tantissime luci ma l'ombra della telecamera un po' si vede allora io ho deciso di utilizzare per quello che per me è il lato principale perché poi vedrete che ho decorato comunque entrambi i lati ma questo è quello che io ho deciso che sia il lato principale e appunto ho deciso di utilizzare la scritta Mary and Bright che trovavo molto carina ho verificato che ci stesse con le misure prima di andare a dare comunque la seconda passata perché mi sembrava comunque carina e mi piaceva l'idea di utilizzare gli stencil è una cosa che mi piace molto fare anche perché l'effetto rimane sempre abbastanza d'impatto soprattutto utilizzando i brilli ed è una cosa che ci permette di lavorare con una certa velocità comunque di realizzare delle cose carine senza doverci stare delle ore il che è abbastanza importante quindi ovviamente non posso fermare lo stencil perché sto lavorando sul legno quindi devo sempre pregare di riuscire a tenerlo bene fermo e cercare di andare a fare la scritta di non uscire e soprattutto di non muoverlo perché sennò si ottiene un effetto bruttissimo e diciamo che sono sempre abbastanza fortunata non è facilissimo lavorare così però ecco si cerca di fare quello che si può in questo caso sto utilizzando il brillogella bislazzulo che quando asciuga rimane più scuro come colore quindi assomiglia quasi di più a un blu però è veramente molto carino lì mi era rimasta una riga come vedete l'ho subito rimossa col brillogella se lo fate subito si rimuove veramente facilmente e dopo mentre che lui asciugava ho cercato di lavorarci intorno e ho scelto per la base quindi dove ci dovrebbe essere il tronco di utilizzare queste strisce di strass e ho scelto di utilizzarle nelle varie tonalità dell'azzurro questi sono quelli della Lidl che ogni tanto prendo quando escono perché comunque sono molto versatili sono comodi e si possono utilizzare sia a striscioline sia singoli io delle volte li utilizzo singoli li stacco se devo rifinire qualche lavoro perché comunque danno quel tocco in più senza esagerare e quindi sono andata diciamo che sono già adesivi però ovviamente è un adesivo fatto per carta non è fatto per andare a decorare il legno quindi ho preferito andare a mettere la colla in modo che comunque il lavoro rimanga un attimino più fermo poi avevo deciso di applicare le rennine però siccome che appunto io non pianifico niente l'ho deciso poi ho provato ma non ci stavano quindi alla fine sono andata sul classico sui fiocchi di neve che fortunatamente avevo anche in questa versione blu e azzurri sono quelli che avevo preso da Teddy che mi avete già visto usare diverse volte e quindi li ho applicati così perché non so lo sapete che ho la fissa di fiocchi di neve ce l'ho la fissa di glitter ce l'ho e vabbè devo fare qualche lavoro mi era stato chiesto solo il vincolo del colore e quindi sono andata così un po' di fantasia e in questo modo ho cercato appunto anche di utilizzare i vari stencil che avevo perché giustamente li ho presi per un motivo volevo utilizzare anche quella stella che sono sempre parte di un set della Lidl però era troppo grande non ci stava bene per quanto riguarda la parte superiore invece dell'alberello ho deciso di usare lo stencil con la stella di Natale e ho scelto di abbinarci il diamante di pietra perché avevo anche un azzurro leggermente più chiaro ma mi sembrava di andare un po' troppo tono su tono e questo tonalità di grigio diventa comunque più scuro rispetto all'alluminio quindi si sarebbe notato e dava uno stacco un po' al lavoro senza andare a fuori dei canoni del colore quindi non ho usato l'argento perché secondo me non si sarebbe visto per nulla ma ho scelto il diamante di pietra che è una via di mezzo tra un grigio e un argento e una volta asciutto devo dire che l'effetto mi piaceva veramente molto anche come stencil è molto carino perché andiamo ad avere la nostra stella di Natale totalmente intera io ho anche lo stencil di Tmolz ma in quel caso ci sono i laterali tagliati in questo caso è aperta quindi trovo che sia uno stencil che comunque era comodo avere quindi ho finito di decorarlo e per la mia idea ci mancava ancora qualcosa io ogni tanto poi mando le foto alle mie amiche quindi mi consulto mentre faccio i lavori ho scelto di mettere questa decorazione con il cuoricino ovviamente io ho fatto una pausa ho aspettato che si asciugasse il tutto non ho forzato l'imbossatura si sono fissata con l'imbossatura non ho forzato l'asciugatura perché comunque non mi piace l'effetto che dà e dopo ho deciso anche per la parte retro di andare comunque a creare una decorazione senza che fosse con un rilievo troppo forte in questo caso ho scelto di utilizzare i perla cream che sono comunque sempre carini sono sempre rimasta sulle stesse tonalità logicamente e in questo caso ho scelto di utilizzare la scritta joy e come vedete qua riesco a mettere le rendine con una piccola con una piccola forzatura della zampina ci siamo riusciti a metterla perché mi piacevano moltissimo e quindi avevo deciso che lì ci stavano bene diciamo che i perla cream in un quarto d'ora più o meno sono asciutti però se voi state attenti e non andate a lavorarci proprio sopra riuscite comunque un minimo a lavorarci intorno poi leggermente l'ho asciugato con l'embosser ma giusto quel pochino che mi permetteva di lavorarci nella parte superiore dove ho scelto di utilizzare lo stencil della ghirlanda anche questo carino che però vedrete poi in fotografia perché io non l'ho lasciato così come ho finito il video ma nel momento che sono andata ad impacchettare la mia il mio regalo e ho deciso di aggiungerli degli strass blu a decorazione della ghirlanda adesso dovrei avere ancora le foto e magari ve le metto come foto nell'anteprima perché l'ho fatto con la telecamera già staccata quindi non sono stata lì a rimontare tutto sinceramente sapete che ogni tanto cambio idea era carino anche così e non sapevo se andarlo a modificare o meno però secondo me gli mancava qualcosa poi è vero che è tutta una questione soggettiva perché ognuno di noi comunque ha le sue idee però secondo me gli mancava qualcosa quindi alla fine gli ho applicato quelli strass che avete visto dietro li ho applicati appunto singolarmente a decorazione un po' come se ci fossero le palline di Natale comunque dei decori sulla ghirlanda io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto ho cercato di farli uscire tutti prima di Natale ma la cosa mi è stata un po' impossibile appunto perché questa tipologia di video va editata va tagliata va velocizzata va tolto l'audio e avendo lavorato la vigilia di Natale tutto il giorno la cosa non mi è proprio riuscita quindi un video ve lo metto magari vi metto quello della card o questo comunque per la vigilia di Natale quindi io vi rinnovo gli auguri per un felice Natale per chi guarda il video io vi saluto ciao a tutti e al prossimo video